Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano al pari delle principali borse europee. Gli investitori attendono la riunione di domani della BCE. Tra le migliori azioni italiane e grande capitalizzazione svetta Telecom Italia, che segna un importante progresso di oltre 4 punti. Le più forti vendite invece si manifestano su Banco Popolare. Deciso rialzo del petrolio new yorkese, che raggiunge 37,07 dollari per barile. Sul fronte macroeconomico è ripresa la produzione industriale in Gran Bretagna, mentre aumentano le richieste di mutui negli USA. Nel pomeriggio sono attesi il dato sulle scorte di petrolio e le vendite all'ingrosso dagli Stati Uniti. Positivo il future sull'S&P 500, che scambia sopra la parità con un più 0,58%, stesso andamento per il derivato sui titoli tecnologici USA, che scambia 4.296,25 punti in progresso dello 0,60%.